Ecco la peggia musina che è registra, praticamente adesso ho fatto così Ecco la peggia musina che si chiama 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 Come scusa? Non ho capito cos'hai detto? Sì? Non ho capito cos'hai detto? 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 Non ho capito cos'hai detto bab Люdale Bellissime la mattina Come si rosso il tuoame Con personas Non ho capito cos'hai detto? I capelli No, meglio di noi Ti mandano via 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 Ma sti facendo meglio Grazie